Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai. Io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Siamo arrivati al ventesimo video del D20 System, quindi l'occasione profizia per fare qualcosa di simbolico. Quindi oggi andiamo a parlare di... Devo farmi venire un'idea. Vediamo. Potrei parlare del Dato da Venti, ma l'ho già fatto. Il Venti naturale come colpo critico. Ho già fatto anche quello. Devo mettermi di impegno e pensare a qualcosa di specifico. Meglio non affrettare le cose. Devo mettermi con calma e pensare a qualcosa di appropriato. Ci sarà un modo per fare un video recente che riguardi il numero 20. A costo di metterci venti volte il tempo che ci metto a scrivere un video, lo devo trovare. Torno subito. La scenetta era fichissima, se la pensate diversamente siete voi a essere in errore. Tornando a noi, cosa si intende per prendere venti nel D20 System? Normalmente la frenetica vita di un avventuriero lo pone in condizione di vivere delle situazioni di grandissimo rischio e grandissima suspense. Deve saltare baratri, nascondersi da mostri cannibali e disattivare trappole letali. Il tiro del Dado da Venti serve appunto a enfatizzare queste situazioni. Riuscirà il monaco a saltare al di là del baratro invece di cadere verso morte certa? Il ranger riuscirà a passare davanti la tana all'orso gufo addormentato senza svegliarlo? Il ladro riuscirà a disinnescare il sistema di tiranti prima che il soffitto schiacci l'intero party? Questi sono i momenti che aumentano i pathos durante la narrazione e sono quei momenti che poi vengono ricordati quando si parla di momenti di gioco memorabili. Il fatto però è che ci sono anche momenti molto più rilassati in cui il tiro di Dado non solo non aggiunge nulla alla narrazione, non aggiunge pathos, non aggiunge enfasi, ma rischia solo di frustrare un giocatore impedendogli di fare qualcosa che è oggettivamente banale. Immaginate un paladino che debba sfondare la porta di una casa in fiamme per salvare un bambino che è rimasto intrappolato all'interno. Sono cose tipiche del lavoro del paladino. Ora immaginate lo stesso paladino che debba tenere sollevato un carretto per aiutare un contadino a cambiare una ruota che si è spezzata. Entrambe le situazioni di gioco vengono gestite con una prova di forza, ma se nel primo caso ogni singolo dado è importante, nel secondo no. Se il paladino non riesce a sfondare la porta nel primo round, ogni round che passa aumentano le possibilità che il fuoco raggiunga il bambino e che quindi un innocente subisca dei danni. Nel secondo caso no, se il paladino non riesce a sollevare il carretto al primo colpo ci riproverà nel round dopo o nel round dopo ancora. Nella peggiore delle ipotesi il contadino arriverà tardi a casa per la cena. Non c'è particolare pathos, non c'è particolare enfasi in quel tipo di narrazione. Ma dato che non c'è nessuna fretta e nessun malus nel fallimento, nel secondo caso il giocatore del paladino non farà altro che continuare a tirare il dado da 20 fino a quando non avrà ottenuto un risultato sufficiente. Questo sicuramente non è un momento di gioco incredibilmente drammatico. In casi del genere il giocatore può semplicemente limitarsi a ripetere la prova, continuare a tirare il dado finché non ottiene un risultato sufficiente a fargli sollevare il carretto. E magari un paio di fallimenti iniziali potrebbero causare ilarità, mettere un momento, un momento comico all'interno del party. Il fatto è che se la serie si proletrae una serie di colpi sfortunati non farà altro che frustare il giocatore e far perdere tempo al tavolo mentre tutti guardano un paladino che non riesce a sollevare un carretto. La regola del prendere 20 serve appunto a evitare questo genere in situazioni. In pratica se un personaggio ha abbastanza tempo, non è distratto, non è in immediato pericolo, invece di continuare a lanciare il dado può semplicemente dichiarare di aver fatto 20 col dado e sommare i vari modificatori che può avere a quella prova. Questo naturalmente non vuol dire che sia un successo automatico, ad esempio un ladro che ha 10 gradi a scassinare, che cerca di scassinare una serratura con classe di difficoltà 40, anche prendendo 20, 20 più 10 fa 30, la classe di difficoltà è 40, il ladro ha comunque fallito e non è riuscito a scassinare quella serratura. Eseguire una prova prendendo 20 richiede anche più tempo che eseguire quella prova normalmente, nello specifico richiede 20 volte il tempo che servirebbe a eseguire la stessa azione non prendendo 20. Per una prova di abilità che richiede un'azione in movimento, questo vuol dire che grosso modo il personaggio ci metterà due minuti a eseguirla. Prendendo 20 si presuppone anche che il personaggio stia tentando in vari modi, tentando più volte, quindi se la prova comporta un costo, che sia un costo immateriale o comunque il personaggio debba pagare qualcosa per eseguire una prova, anche questo costo è moltiplicato per 20. Se la prova implica qualche genere di penalità con il fallimento, ad esempio se fallendo la prova di più di 5 gradi il personaggio faccia scattare una trappola o si avveleni da solo, come nel caso di avvelenare le armi, si considera che il personaggio abbia anche fallito e quindi subisca tutte le conseguenze negative. fondamentalmente si può dire che invece di tirare il personaggio dichiari che lui abbia ottenuto tutti i risultati possibili dall'1 al 20 con la sua prova. Mi è successo nel corso degli anni di sentire molti master e anche molti giocatori lamentarsi della regola del prendere 20 sia perché è talmente forte che può rompere il gioco, rendere inutili la maggior parte delle regole, ma anche perché ah ma è una regola inutile, non serve a niente, è un refuso alle prime edizioni, cosa che non è stata introdotta con l'estero di 3.0 tra l'altro. Personalmente io la trovo incredibilmente comoda appunto per gestire situazioni non particolarmente drammatiche. Il party decide che deve frugare da cima a fondo una stanza, una zona, anche un intero dungeon che tanto oramai hanno già ripulito dai mostri, sono relativamente al sicuro, non c'è niente che gli metta fretta. Perché perdere un'intera sessione di gioco a sentire giocatori che dichiarano ah io cerco una libreria, io cerco una scrivania, io cerco picchietto le mattonelle una per una, io picchietto le pareti una per una in cerca di porte segrete. Può essere divertente una volta, ma alla lunga è una mera perdita di tempo. Se una prova di cercare in un'area dura sei secondi, dura un'azione, moltiplicate per venti, ogni casella di un metro e mezzo per un metro e mezzo del dungeon sono due minuti, moltiplicate per il numero di caselle del dungeon dell'area che stanno esplorando e poi limitatevi a dire qualcosa come ah dopo quattro ore di ricerca avete trovato questo tesoro, questa porta segreta dietro la libreria, ma uno scelto a caso ha fatto scattare una trappola e si becca tot danni. E a questo punto si procede con le parti più interessanti della narrazione che non sono certo i personaggi che che frugano dentro il cestino dei loro nemici, non si è fatto perdere tempo al tavolo perché la narrazione procede, non ci sono stati dei cali che fanno perdere l'attenzione e soprattutto si dedica il tempo che rimane alle parti importanti del gioco. Personalmente consiglio a tutti i master di valutare molto bene la possibilità di far prendere venti ai propri giocatori e quando far prendere venti i propri giocatori perché è una marcia in più, aiuta molto a semplificare le partite. Voi rifletteteci, per questo video invece è tutto. Mi piacerebbe sapere da voi se vi è mai capitato di superare delle situazioni in cui l'unico modo per farlo era fondamentalmente prendere venti o se magari il vostro master o voi come master avete mai costretto i giocatori a fare effettivamente tutti i tiri uno dietro l'altro e perché avete scelto di fare così e non prendere venti. Se il video vi è interessato e vi è piaciuto lasciate un like e scrivete un commento e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il master CAE, noi ci vediamo al prossimo video.